Bentornati, è stato estremamente divertente vedere come le due precedenti coronoscopie abbiano causato bua al sederino di certe teste che si adoperano ad una ricerca della verità vagamente ideologica e condizionata. La differenza tra... Oh, ma c'è sta gente che se sta a vedere video senza essere iscritta al canale. Vabbè, ma mica obbligatorio. Oh, amfavi, guarda che è gratis. Clicca! Mi sembra un atteggiamento eccessivamente aggressivo comunque. Vabbè, vabbè. A faccio piano. Clicca gentilmente su iscriviti al canale. Poi pure non fallo. Poi però non mi veni a pregare quando nonna s'ammala. Come nonna s'ammala? Ma che è una maledizione? Ma me lanci le maledizioni! La differenza tra chi si approccia a certi argomenti in maniera confessionale o a confessionale sta proprio nell'onestà intellettuale di cambiare idea di fronte alle evidenze storiche. Abbiamo già visto come nel passato i cristiani producessero dei falsi per i più svariati scopi. Tra questo anche quello di mettere delle toppe in dei grossi buchi storici. Personaggi incredibili, tipo Paolo che compie straordinari miracoli e risuscita pure lui delle persone, non viene cagato da nessuno della sua epoca. La sua fama era così irrisibile che le conversioni su di lui erano più o meno... Oh, c'è presente Paolo? Chi? Nessuna delle grandi menti del passato sembra accorgersi della straordinarietà di Paolo. E questo è uno dei problemi che spinse i cristiani del IV secolo a produrre una falsa corrispondenza di lettere tra Paolo e Seneca, una delle menti migliori del I secolo. Questo hanno sempre fatto i cristiani nel corso del tempo, produrre dei falsi per dare valenza alle proprie idee. Ed è un fatto incontestabile. E quindi è andata così anche per quanto riguarda la storia di Gesù? Vediamo. Abbiamo già parlato del problema delle copie, delle motivazioni che hanno spinto i copisti a cambiare i testi. E come gli storici hanno dimostrato, non si tratta solo di errori di copiatura, ma di vere e proprie manomissioni atte ad armonizzare il testo in quello in cui già credevano. O per contrastare dottrine cristiane rivali. Siccome sono i Vangeli la principale fonte di informazione sulla vita, i detti e le opere di Gesù, ci dobbiamo fare una domanda. Che ha scritti? Molti forse ancora credono che i Vangeli di Matteo e di Giovanni siano stati proprio scritti dagli Apostoli. Mentre Marco e Luca siano i discepoli degli Apostoli. Ebbene, tutti e quattro i Vangeli in realtà sono testi anonimi. Nessuno degli autori si presenta nel suo testo, lo firma o dice di essere qualcuno. In più narrano degli eventi cui dovrebbero stare assistendo in terza persona. In Luca e Giovanni però ci abbiamo degli eventi narrati in prima persona dall'autore. In Giovanni in realtà anche il finale. E questo in realtà rende ancora più chiaro che nessuno di loro è stato testimonio oculare degli eventi. L'autore di Luca, nella parte in cui scrive in prima persona, rivela che sta scrivendo quel testo, non certo per una missione divina o sotto chissà quale tipo di ispirazione, ma dice di scrivere per un amico suo, un certo teofilo. L'autore ci dice che i racconti su Gesù furono narrati precedentemente da testimoni oculari e poi da altra gente. Ma Luca non dice affatto di aver scritto questo testo dopo aver ascoltato testimoni oculari. Anzi, si limita a dire che farà le sue ricerche e poi ne produrrà un resoconto. Che dite se ci avesse avuto un testimone oculare come Fonte in avrebbe detto? Il Vangelo di Giovanni invece usa due volte la prima persona. Nel prologo afferma che lui e l'autore insieme alla comunità dei credenti hanno ricevuto la gloria di Gesù. E vabbè, ce può stare. Quello che è fondamentale invece è il finale, dove c'è il racconto del Gesù risorto che appare a Pietro e gli dice che... Attenzione, il passo che state per leggere tratto dal Vangelo di Giovanni potrà farvi piangere per più di un motivo. Se il giorno in cui da bambini, scoprendo che Babbo Natale non esiste, vi siete resi conto che è stato un trauma troppo grande da superare per voi, non continuate con la visione di questo video. Il racconto del Gesù risorto che appare a Pietro... Ma ne avevo già detta sta cosa? Vabbè. Gli rivela che il discepolo amato sarà ancora vivo quando lui tornerà nella sua gloria. Cosa? Gesù afferma che un suo discepolo sarà ancora vivo quando lui ritornerà? Ma allora non sarà che quando Gesù disse non passerà questa generazione prima che tutto ciò che ho profetizzato avvenga, non è che intendeva come affermano alcuni puffologi, tipo generazione, tempo indefinito. Sta a vedere che era proprio generazione intesa come nel contesto storico e culturale del tempo? Cioè la generazione biblica che equivale a un periodo dei 40 anni? Oppure siccome Gesù non è ancora tornato, dobbiamo desumere che in mezzo a noi ci sia un vecchio del 2023 anni chiamato Giovanni. Poi c'è credo che l'Inps ne la fa pagare pensioni, si è a ciucciare tutti lui i sordi. Ma torniamo all'attribuzione dell'autore che dopo aver detto questo dice qualcosa in proposito del discepolo amato. Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi, che non siamo quel discepolo, noi sappiamo che la sua testimonianza è veritiera. Quindi è palese che non sia Giovanni a scrivere, ma un tizio che dice che il suo racconto è basato su quello che ha scritto il discepolo amato che la tradizione identifica proprio come Giovanni. Vabbè, dici comunque buono, un tizio scrive usando come fonte proprio quello che ha scritto Giovanni, un discepolo di Gesù. Ma è ovvio che un pescatore povero da Galilea di quel tempo sapesse scrivere. Soprattutto quando gli studi dimostrano che più del 97% della popolazione era analfabeta. Ma se anche voi siete dei buffologi e non vi fidate degli storici, prendete gli atti degli apostoli che affermano che Giovanni e Pietro erano degli analfabeti. È un fatto che gli autori che oggi noi conosciamo come Marco, Matteo, Luca e Giovanni furono decisi verso la fine del secondo secolo. E risulta ancora più evidente, visti i vari autori cristiani che scrivono in un periodo immediatamente successivo alla stesura di questi testi, che li citano nei propri, citano i versetti senza mai indicare chi ne fosse l'autore. Li citano anche Clemente o Ignazio di Antochia, citano i versi, ma non sanno chi sia l'autore. C'è però un'eccezione, c'è un'eccezione ed è l'eccezione a motivo del perché Matteo e Marco portano questi nomi. Stiamo parlando della testimonianza di Papia, un autore cristiano che scrive dal 120 e il 130 d.C. Purtroppo l'opera di Papia non esiste più, ma la conosciamo tramite la menzione che ne fanno altri autori cristiani. La cosa interessante però è che questi autori, come Eusebio di Cesarea, il padre della storia della Chiesa, considera Papia un coglione, uno di scarsissimo intelletto, dice lui. Quello che sappiamo da parte di questi autori su Papia è che Papia conosceva dei testi e alcuni dei loro autori. Ci parla infatti, senti che bomba, di un certo Marco, discepolo di Pietro. E ci dice che questo Marco scrisse un Vangelo disordinato perché riportava quello che Pietro ricordava sul momento mentre andava in giro a predicare. Quindi una volta gli veniva a mente la cosa, una volta un'altra. E qui scrisse questo testo proprio mentre seguiva Pietro in un periodo di sei mesi. Vi sembra per caso stia parlando del Vangelo di Marco oggi in nostro possesso? Non è affatto un testo disordinato. E poi mi sembra improbabile che dopo aver seguito per sei mesi uno dei principali testimoni della predicazione e della vita di Gesù scrivi il Vangelo più corto di tutti, che in oretta tu lo leggi tutto. Sta parlando forse di un altro Vangelo o era Pietro che non si ricordava un cazzo? Io Pietro, amico stretto e discepolo di... di coso? Coso? E come si chiamava? Giorgio! Ma come Giorgio? E vabbè, iniziava con la G. Gesù! Dove? È tornato, è tornata le professie che si sono avverate. Come il nome proprio era... Delle cose, delle cose. È tornato come aveva profetizzato e viva Gesù! Di Matteo, invece, disse che mise per iscritto una raccolta di detti di Gesù in lingua ebraica e che poi altri li tradussero. Vi sembra il Vangelo di Matteo che abbiamo oggi? Considerando poi che Matteo usa come fonte il Vangelo di Marco. Cioè, secondo i buffologi, Matteo, il discepolo di Gesù, usa come fonte il discepolo di un altro discepolo. Pure lui non si ricordava, stavano tutti con Alzheimer. In più, il Vangelo di Matteo non è affatto un testo tradotto da ebraico. Tutti i Vangeli sono di origine testuale greca. In greco sono stati scritti. Tra l'altro, non sappiamo se Papia parlasse anche dei Vangeli di Luca e Giovanni, perché gli autori che lo citano non riportano niente su di essi. È interessante perché, nonostante Papia venga ritenuto un perfetto imbecille dai padri stessi della Chiesa, poi i buffologi lo prendono in causa per dimostrare che già si sapevano gli autori dei Vangeli a partire dal primo secolo. Per farvi capire l'attendibilità di Papia vi racconterò quello che pensava fosse successo a Giuda dopo il tradimento. E' tra l'altro un racconto in contrasto con quello che viene raccontato in Matteo. Che Papia conosceva e che alcuni buffologi dicono proprio, è proprio quello di Matteo che abbiamo noi. Comunque Papia racconta che Giuda, dopo la morte di Gesù, si gonfia come un pallone, diventa gigante, gli vengono i vermi ai testicoli, casca per terra, esplode in una bozza di sangue e merda, causando un odore e nauseabondo che si sente pure in secolo dopo la sua morte. Ah madonna, che è? Ma manco Tarantino, dai! Direi che possiamo affermare con assoluta certezza che nessuno dei testimoni oculari produsse i Vangeli che abbiamo noi oggi e nemmeno che siano stati scritti dai discepoli di questi testimoni oculari. E soprattutto i veri autori dei quattro Vangeli non sono Marco, non sono Matteo, non sono Luca e non sono Giovanni. Sapete qual è l'unica testimonianza relativamente prossima alla vita di Gesù? Le lettere di Paolo, cioè la testimonianza di uno che non è stato testimone di un cazzo. Paolo dopo l'ictus, scusate, dopo l'evento miracoloso in cui Gesù gli apparve e gli disse di sceglierlo come nuovo divulgatore di un nuovo Vangelo, perché evidentemente aveva licenziato gli Apostoli, non se sa. Paolo inizia la sua predicazione in giro senza passare dagli Apostoli, che vedrà solo in un secondo momento. È proprio Paolo a dirci nelle sue lettere, facendo finta che siano tutte vere e no, almeno sei so false, che il suo è un Vangelo diverso da quello che predicavano gli altri. È Paolo stesso a dirci che è in contrasto con Pietro. Paolo infatti ci racconta che gli ha incontrati gli Apostoli andando a Gerusalemme, dove ha parlato addirittura con Giacomo, il fratello di Gesù. Sì, rivediamo, fratello, non cugino. Maria ha avuto altri figli o tre Gesù, Maria ha preso il cazzo, quindi le sue statue oggi non hanno alcun motivo di piangere. A meno che non fossero tutti i cazzi piccolissimi. Però, oh, fermi, Paolo non sarà stato certo un testimone degli eventi, però ha parlato niente po' di meno che gli Apostoli di Gesù, pure il fratello. Informazioni di primissima mano, chissà quante cose si è fatto raccontare sulla vita di Gesù. Sicuramente sarà Paolo la principale fonte di informazioni sulle sue opere, sui suoi detti, su quello che ha fatto. Dai, siamo buoni, fammo finta che tutte le lettere di Paolo le ha scritte Paolo e facciamo un bel elenco delle cose che Paolo ci racconta sulla vita di Gesù. Allora, prima di tutto Paolo ci racconta che Gesù è nato da una donna. E grazie al cazzo. Esattamente, perché Paolo non menziona nessun concepimento parto miracoloso. È nato da una donna, appunto. Aveva dei fratelli, era discendente di re Davide, ha predicato pubblicamente tra i giudei, ci aveva dodici apostoli, menziona due frasi canoniche dell'ultima cena, conosce un altro paio di insegnamenti di Gesù. Uno è quello che chi crede in Gesù non può divorziare, l'altro è che chi divulga la parola di Gesù, tipo Paolo, deve essere mantenuto da chi ci crede. Paolo aveva capito tutto da vita. Poi, che è comparso davanti a Ponzio Pilato, scritto in una lettera che non è di Paolo, che la colpa è dei giudei, scritto in un'altra lettera che non è di Paolo, poi sa che è morto sulla croce e ovviamente crede alla sua risurrezione, che è spirituale, non corporea. Quindi una risurrezione sotto forma di visioni. Basta, Paolo non menziona la Vergine, il battesimo di Giovanni Battista, gli esorcismi, i miracoli e resurrezioni, le trasfigurazioni. Ma porco Giuda, hai parlato con i discepoli di Gesù e non te sei fatto di incazzo? Ma di che avete parlato? Paolo, sei giunto or dunque? Io sono Giacomo, il fratello di Gesù. Chiedimi pure tutto quello che vuoi sapere. Ma è vero che Nadia fa... Chi? Nadia, dai, la snaccherona che si abbassica fuori dal tempio. Ma che ne so? So Giacomo, so il fratello di Gesù. Ma chiedimi qualcosa su Gesù, no? Vabbè, sì, colpa mia, colpa mia. Sai, il viaggio, la fatica, il caldo, non ce sono... Mi concentro su Gesù. Sì, certo, posso capire il caldo. Chiedimi ora tutto quello che vuoi sapere sul Cristo Redentore. Ma è single, Gesù. Ma che Gesù? Nadia, girano certe voci, dai. Oh, quella sì che te succhiava i miei peccati. Altro che tu, fratello. Però è strano che Paolo non conosca altri insegnamenti di Gesù. Nonostante nelle sue lettere cita dei temi affini, solo che li attribuisce a se stesso. Cita dei miracoli e delle resurrezioni, solo che li attribuisce a se stesso. Hai capito, Paoletto? Sì. Vabbè, direte voi, ma c'erano pure gli apostoli veri a diffondere il verbo. Chissà quanta gente avranno convertito, quante comunità avranno tirato su. E infatti conosciamo diverse comunità cristiane nate nel primo secolo. Quella dei Filippesi, di Tessalonica, di Efeso, L'Istra, d'Erbe, Creta, Antochia, Tarso. Tutte fondate da Paolo. Tutte in una località, per maggioranza, gentili pagane. Sapete di chi non abbiamo notizio che abbia fondato mezza comunità? Pietro. Manco una. Manco a Roma. Paolo, quando scrive la lettera ai Romani, e mica scrive all'attenzione di Pietro. Parla di altra gente, all'attenzione di altra gente, di altri capi comunità. La narrazione che conosciamo oggi di Gesù nasce in territorio gentile, tra i pagani. Nelle terre dove Gesù predicava, la maggioranza restarono di religione ebraica. È strano, perché sto Gesù aveva letteralmente i superpoteri, ci mancava solo che volava. Aspetta, una volta ha volato. Faceva cose, guariva gente, resuscitava i morti, schioppettava i demoni. Ed essendo lui Dio, ha persino risorto se stesso. You, Lou, continue? No, ho perso. Mannaggia a me. Gabriele! Vammo a pianare altro gettone, daje. Eh, sono finiti, mio signore. Devo scendere a fare il cambio monete. E quanto ci vuole? Beh, minimo tre giorni. Ma porco. E poi era seguito da folle, oceaniche di persone che lo stavano ad ascoltare. Sicuramente avrà fatto clamore, no? Mo, a parte le fonti cristiane, ci sarà qualcuno che si è corto di sto Gesù Cristo. Praticamente, per tutto il primo secolo e poco più, nessuno. A parlare di Gesù, sono solo fonti cristiane. Eppure c'erano grandi menti, grandi atori in quell'epoca, proprio da quelle parti. C'era Filone d'Alessandria, un filosofo ebreo che viveva in Egitto, ma bazzicava pure la Palestina. Ci parla degli Esseni, che è un gruppo religioso di quel tempo. Ci parla addirittura di un gruppo di terapeuti egiziani assolutamente marginali, che però, secondo Eusebio de Cesarea, di cui parleremo dopo, erano sicuramente cristiani. Ma Filone d'Alessandria, nonostante la mole di roba che ha scritto, Gesù non lo conosce proprio. Niente, nemmeno un accenno, nemmeno un oh, mi pare di aver sentito di qualcuno che faceva abbracadabra e faceva scendere le pagnotte dalle maniche. Niente. A quel tempo c'era pure Seneca, di cui abbiamo parlato prima. Pensate che Seneca era fratello di Gallione. Diciamo chi cazzo è Gallione? Gallione viene citato negli atti degli apostoli per essere colui che processa Paolo. Ma Seneca non sa niente e non menziona Gesù nemmeno di striscio. E infatti i cristiani produrranno poi delle lettere farze per far finta che Paolo e Seneca si scrivono. Linio il Vecchio, pure lui visita la Palestina. Ci parla della popolazione, della cultura di quel tempo. Ma Gesù schiva, non si fa mai beccà e nessuno parla di lui. C'è Plutarco, che è uno storico e si occupa di religioni medio orientali, parla di divinità che muoiono e risorgono, ma non di Gesù. E quest'anno il premio come miglior giocatore di nascondino del primo secolo va a Gesù Cristo! Oh, grazie, grazie, ma non ho merito. Praticamente non ho fatto niente. Sono un botto gli autori non cristiani che hanno a che fare con la Palestina di quel tempo, ma che non menzionano mai Gesù e i suoi dodici amici pazzerelli. Anche per questo imbarazzante silenzio nelle fonti non cristiane, i cristiani nei secoli produssero una gaderba di falsi per tappare quei buchi. Ma fermi tutti! Lo so, lo so. Giuseppe Flavio, lo storico ebreo cittadino rumano Giuseppe Flavio, che scrisse nella sua opera tanto cara ai buffologi nostrani quei passi che conosciamo come il testimonium flaviano. Un passo presente nell'opera dell'autore chiamata Antichità Giudaica scritta nel 93. Sentite, sentite cosa dice Giuseppe Flavio su Gesù. Allo stesso tempo, circa, visse Gesù, uomo saggio, seppure uno lo può chiamare uomo, poiché egli compì opere sorprendenti e fu maestro di persone che accoglievano con piacere la verità. Egli conquistò molti giudei e molti greci. Egli era il Cristo quando Pilato Udì, che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin da principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno apparve loro nuovamente vivo perché i profeti di Dio avevano profetato queste innumerevoli altre meraviglie su di lui. E fino a oggi non è venuta meno la tribù di coloro che da lui sono detti cristiani. Bomba! È fatta! Testimonia insieme non cristiana top! Parla di opere meravigliose eppure da resurrezione scacco matto! Dice proprio che Gesù era il Cristo, il Messia. Abbiamo infatti l'ennesimo esempio di manipolazione cristiana delle fonti antiche. Gli studiosi oggi discutono se questo passo sia parzialmente fatto falso o del tutto falso. Di sicuro è impossibile che Giuseppe Flavio potesse dire di Gesù che egli era il Cristo perché definì come tale l'imperatore Vespasiano. Il testimonio flaviano viene citato per la prima volta da Eusebio di Cesarea che visse tra il secondo e il terzo secolo. E nessun autore precedente cita questo passero nelle sue opere apologetiche nonostante conoscessero tutti Giuseppe Flavio. Non lo citano nemmeno quando risulterebbe comodissimo citarlo per rispondere ai pagani che accusano i cristiani di essersi inventati tutto. Quindi il primo che conosce questo passo è Eusebio di Cesarea che scrive centinaia d'anni dopo la sua presunta scrittura. Chissà se gli autori avversari a Eusebio e anche gli storici moderni abbiano ragione quando lo definiscono un cazzaro. Ma cosa dire di quello che Eusebio dice di se stesso nella sua opera orgasmica per i puffologi moderni? Ecco il metodo storico che lo stesso Eusebio dice di usare. In questa storia presenteremo in generale solo quegli eventi che possono risultare utili prima a noi stessi e poi ai posteri. Ma ancor più esplicito è il passo usato in preparazione evangelica che dice testualmente può essere lecito e opportuno utilizzare la falsità come medicina per il beneficio di coloro che vogliono essere ingannati. Eusebio di Cesarea è quel tipico storico cristiano che potremmo definire con un termine accademico non di facile comprensione che sarebbe a buciardo! Eusebio di Cesarea è infatti anche colui che produsse la famosa corrispondenza tra Gesù e un re egiziano. C'è proprio uno scambio di lettere tra Gesù e un re egiziano che gli chiedeva un miracolo completamente false. Ovviamente ci furono nel tempo autori non cristiani che parlavano di Gesù e dei cristiani grazie al cazzo parlavano di quello che raccontavano i cristiani in giro ma ormai siamo troppo in là con gli anni ma ci sono altri autori cristiani del primo secolo che parlano di Gesù? Il discorso sarebbe ancora lungo ma io vi lascio al video che è uscito questa mattina di Conchila il principe del male coi baffi che potete trovare nella scheda qui in alto se mentre sto a far così il video è già uscito oppure in descrizione vi aggiungo il link se è uscito mentre ho pubblicato il video. Ma allora ricapitolando che dobbiamo fa? E i Vangeli no e Paolo no e le fonti non cristiane no? come fama ad avvicinarsi a qualcosa che è minimamente attendibile sulla vita di Gesù? Non ci resta che capire chi parlò di lui subito dopo la sua morte e come diffuse la sua storia ovvero quei diversi dicenni che vengono chiamati la tradizione orale e sarà proprio questo il quarto dito della colonoscopia al cristianesimo ah oh quasi fisting eh io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e ringrazio anche chi sta supportando questo canale economicamente con abbonamenti o donazioni grazie il supporto di tutto voi è prezioso anche fosse solo un like o una visualizzazione grazie figlioni ci vediamo domenica prossima ora mettiamoci comodi e godiamoci i commenti inferociti che arriveranno qua sotto prima di andare però volevo consigliarvi un canale per un approfondimento serio agli argomenti che stiamo trattando in questi video l'ho scoperto qualche giorno fa e il canale si chiama Sapiens Sapiens è gestito da un docente di lettere che ha fatto un'ottima playlist sulla storia del cristianesimo lì potete trovare un'esposizione dei fatti fatta in maniera chiara e seria link è sopra o sotto in descrizione beh lo trovate ci vediamo domenica prossima ciao